Quando abbiamo iniziato questo progetto un po' con Michele, in questo momento storico è sempre difficile trattare di politica perché tutti dicono mia politica, no no non voto, io non voto dopo a 10 anni, io non voto in Giovaio, no ed è strano, mi ricordo sempre un film, un pezzo di un film che ho fatto vedere spesso ai ragazzi di Scout che mi piace particolarmente ed è di Baria, ed è il momento in cui lui è quasi morto, la vita, la forza, l'energia lo sta lasciando ed è corrigato, a un certo punto arriva suo figlio, suo figlio non arrivava e lui a un certo punto comincia a dire la politica è bella, la politica è bella, la politica è bella La politica è bella, la politica è bella, la politica è bella, la politica è bella, la politica è bella La politica è bella, la politica è bella se è fatta col valore delle cose, col cuore, se è fatta in modo giusto e sincero. La politica è bella, 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 la politica è bella.